Il perdono è espressione d'amore. 28 marzo 1973. Figli di Letti, sia pace ai vostri cuori e alle vostre famiglie. Quanto godo di trovarmi qui con voi. Io sono la madre del divino amore e quando mi si chiama nelle famiglie con la recita del rosario, non posso portare che amore. Voi mi amate ed io vi ricambio, moltiplicando all'infinito il vostro amore. È vero che io amo tutti perché tutti gli uomini sono stati affidati alle mie cure materne, ma quando ricevo uno, io rendo dieci e cento, poiché la riconoscenza è nel mio cuore un bisogno divino. Ora, dunque, sono qui e per l'amore che vi porto, vi prego di trascorrere santamente queste settimane che vi separano dalla Pasqua, perché con la risurrezione del mio Figlio avvenga in voi come un rinnovamento di vita spirituale, in un amore più sentito verso Dio e verso il prossimo. Dovete perciò, in questo periodo, compiere in voi un annientamento di tutte quelle inclinazioni cattive, di cui difetti che, mentre dispiacciono a Dio, sono causa di contrasti anche fra di voi. Voi sapete quanto sia necessario amare, per poter far parte della vita di gloria in Paradiso. Quando Dio creò l'uomo, impresse nella sua anima quella legge che comanda di amare, e proibisce tutto ciò che è contrario all'amore. I dieci comandamenti che Mosè ricevette sul monte Sinai, non erano che la documentazione scritta di quella legge, e solo nella pratica di essa l'uomo poteva vivere bene. Ma nella pienezza dei tempi venne il Figlio di Dio sulla terra. E venne non per distruggere ma per perfezionare la legge. Egli insegnò agli uomini come veramente si deve amare. L'amore rende simile a lui. Da Figlio di Dio qual era, rivestì la natura umana e si amigliò fino ad essere sottomesso per trent'anni a due sue creature. Poi, per tre anni, predicò l'amore e fece del bene a tutti. Di lui si pote dire che fece bene ogni cosa. Sebbene non avesse bisogno degli uomini, si fece tutto a tutti per guadagnare tutti a Dio. Le opere che egli compiva glorificavano il Padre poiché le compiva nel suo nome, ma erano anche espressione di carità verso tutti, poiché doveva insegnare che gli uomini devono amarsi fra loro, e il suo esempio doveva essere luminoso. Diceva il mio Gesù, dovete perdonare, se volete essere perdonati. Il perdono è espressione d'amore ed egli per primo perdonò a tutti. Perdonò a chi lo cercava per farlo morire e, mentre avrebbe potuto fulminarlo, si sottraeva ai suoi occhi. Perdonò a chi lo insultava e non voleva credere alle sue parole e alle sue opere, perché lo chiamava con disprezzo il figlio del Fabbro. Perdonò sempre e perdonò a tutti, ai discepoli che non lo capivano, agli apostoli che pensavano di poter essere glorificati per mezzo suo, o che aspettavano un trionfo umano. Perdonò e amò fino a chiamare amico colui che conosceva come il traditore, che per trenta danari lo aveva venduto. Perdonò ai propri crocifissori, e il perdono era così completo che volle trovare persino le attenuanti per il loro delitto. Padre, perdona, perché non sanno quello che fanno. Ecco dunque, figli miei, che io vi faccio un invito. Predisponete i vostri cuori alla Pasqua con un perdono totale a tutti coloro, che in qualsiasi modo vi avessero offesi. Sarà come una Pasqua anticipata se, nella dimenticanza più completa di quelle offese che possono aver amareggiato il vostro cuore, saprete dire la parola di riconciliazione, saprete ricambiare il male col bene e saprete dare a tutti l'abbraccio di pace. Vi ha comandato questo perdono il mio Gesù quando, nella bella preghiera del Padre nostro, vi ha insegnato a chiedere al Padre il perdono delle colpe, che vi sarà dato nella misura con cui voi perdonerete agli altri. Vi ha insegnato il perdono in alcune parabole, come quella del servo spietato a cui il padrone aveva condonato il debito. Avrebbe dovuto lui pure avere pietà del suo compagno, ma essendosi rifiutato, fu condannato al carcere. Vi sia dunque di sprone questo pensiero. Ogni giorno, davanti a Dio, dovete battervi il petto perché la vostra debolezza vi porta a commettere tante mancanze, di cui forse nemmeno vi rendete conto. Se la vostra misericordia sarà abbondante, troverete un perdono facile e completo, perché sarà usata a voi la stessa misura che voi avrete usato agli altri. Così perdoni il marito alla moglie e ai figli, perdoni la mamma e la sposa al marito e ai figli, perdonino tutti a tutti. Sia una pace che si diffonda nel nome del Signore, a dimostrare che ancora l'amore regna nel mondo e che la parola del Vangelo torna a rivivere. Ed ora vi benedico. Benedico coloro che desiderano far parte dei volontari della sofferenza. È un dono d'amore che vi sarà reso in tanta forza e tanto conforto. A tutti la mia carezza e il bacio di pace. Portate questa pace dovunque. Solo dal vostro amore nascerà la concordia e il rispetto vicendevole.